Maria è la madre del figlio di Dio, la madre di Gesù e proprio Gesù sul legno della croce, prima di esalare l'ultimo respiro, l'ha affidata alla Chiesa quando a Giovanni dice Donna, ecco tuo figlio. E come ci dice l'Evangelo, Giovanni l'ha prese tra le cose più care dopo l'Eucarestia. Quindi Maria è la madre di tutti gli uomini, è colei che in Cristo spiritualmente ci ha rigenerati ed è presente anche per noi che crediamo al nostro battesimo e quindi ci genera attraverso quell'acqua fontale. Trapani vede in questo santuario in cui noi padri carameritani siamo a servizio della Chiesa Santa di Trapani e un punto di riferimento per la pietà verso la Gran Madre di Dio. Già da tempo si sono organizzati questi convegni mariani annualmente al santuario. e quest'anno, come si è già detto, il tema fuga in Egitto e fuga in Europa è un tema di attualità per tutto ciò a cui assistiamo. Quando vediamo questi fratelli che da altre parti del mondo approdano alle nostre coste cercando un po' di rifugio. Mercoledì sera chiuderà questa serie di incontri Monsignor Fragnelli. Sì, il nostro Vescovo, di fatti da quando io sono ritornato di comunità qui a Trapani e ho ridato inizio a questo convegno. Tutto è stato sempre fatto in comunione con il nostro pastore Pietro Maria. Lui, sempre accogliente benevolo, ha mostrato buona volontà, partecipazione, e ci ha spronati a continuare con questa iniziativa annuale che si svolge in maggio, il mese dedicato dalla pietà popolare alla Madre di Dio.